eccoci 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 qua bello vediamo se questa volta arriva la notificazione attenzione sta iniziando precezione dei dati e va nessuna notifica così ti vogliamo così senza notifiche no ola 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 è arrivata dopo che ho aperto la live bellissimo no allo no no sveglia spero che questa volta la chat vada che vada tutto che tutto funzioni alla merda miglia allora dovrei un secondo ragazzi no finita tinta un secondo che non leggo che devo vedere le impostazioni stream perché mi sa che c'è un problema allora non so più giocare jessica nel frattempo jessica nel frattempo sta giocando vincendo quasi ogni partita non è jessicla jessicla è un click blade warning warning e sta puta mierda chi è la lawyer 7 è ricordo da 6mila bui trascada hours allora il twitch da problemi come diceva ieri scotch e sempre l'ha detto allora mi dice che devo fare qualcosa che ha a che fare con warning warning rutta jessica rutta ragazzi no si è come la sua bella c'è cosa ha tirato il rutto ascheroso soffì hallo soffì e ha ti soffat geseen in match ha sei da fack niente è in match ma vai c'è più spiel soffì 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 guarda Pierangelo oh dov'è Pier ti sta chiedendo ciao Pierangelo ciao Pier come stai? ti sei ripreso? ciao a tutti ma a me va a twitch ma come non va la gente dice non va a twitch non va a twitch non va a twitch Jaime che adesso non stava ciao ciao mi dà il godicuma quel Enzo non lo conosci no per caso chi? quel Enzo quel Enzo no quel Enzo non lo conosco allora qua mi dice che devo fare una cosa ma non sono capace a fare questo Enzo italiano qua giocando con noi impostazioni impostazioni molto bene una live temprana oi il tuo vostro oh chicos io non sto leggendo nada intonse lo che scrivei sono problemi vostri mi ha voluto a non cambiare l'arma non me lo creo Johnny Bean Johnny Bean Johnny Bean Johnny Bean Johnny Bean Johnny Bean just wanna cover me vuelve no a non check out social alert è social l'alerto social alert mi encanta los italiano stai zitta, va no, ma che lo dico in serio mi piace parla ella che viene dalla patria volkswagen no? ella dice che le encanta gli italiani che parlano inglese perché non posso attivare questa cosa sempre parlano male di italiani no e poi tutto come il nostro il nostro mandolino e la nostra pizza il nostro Vesuvio vos gusta il Vesuvio bravo, bravo chi è? a chi vuoi dire? a chi Sofì? vieni a me, vieni a me vieni a me vieni oh Kaleb ma tu sai, c'è Kaleb Kaleb se stai per a chi è sai come usare Twitch? perché non consiglio cioè la gente non consiglia usare il Twitch mio io però se lo apro vedo tutto bene questo lo comprendo cicos 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 todo verde no Pierangelo non ti ho bloccato ieri ti ho bloccato l'altro ieri ok? perché abbiamo parlato mezz'ora che dovevamo entrare in una clan war per giocare da soli con delle persone siete entrati ok? e ci hanno mandato in culo penso la prima partita subito così capito? perché voi eravate dentro però passa nada perché alla fine è stato è stata una clan war di buffoni abbiamo abbiamo solo infamato le loro madri e abbiamo solamente dimostrato chi eravamo perché sempre finisco la tinta nel momento più sfortunato perché tu non c'era Jenny? ah tu non usa al final non mi tengo che ir prima ci ha fatto un asusto quindi Gabriele ha detto un asusto un asusto no, asusto ma a me non mi piace come dicevi asusto perché io non ho punteria cioè hai che cambiare questa parola è asusto che uno si spaventa non è che si stuta è che dopo si chiama asustare e è asusto basta quindi il dittatore ha parlato di aspetta ma io la vede quella è brutta di cosa stava parlando? di cosa? chiede adesso si chiama il cazzo passiat il cazzo passiat perché dici parolacce nella mia chat? eh? perché dici parolacce nella mia chat? il cazzo passiat ha detto no cosa hai detto? non ho detto questo sei volgare che stai dicendo? vale e giù lì tenda lì giù lì tenda lì giù lì tenda lì giù lì tenda lì eh? ci si chiama il cazzo passiat ci si chiama il cazzo passiat però niente importante calabasca ma perché dici calabasca nella mia chat? perché hai detto cazzo caspia? vuoi giocare? vuoi giocare? vuoi voler giocare con me? non ti lascio non ti lascio giocare voglio giocare con te allora Kelly vedrai alle 7 perché mi voglio giocare alle 7 ma sono in casi alle 7 casi ok ok Kelly sì allora dai ragazzi quando siamo tutti andremo a giocare in una privata non puoi matarla? ma comunque è gattia? mi hai chiesto in tinta mi hai chiesto mi hai chiesto super Sophie non ho detto questo super Sophie ciao sono quasi olandese anch'io come te che olandese? bevete acqua tutti i cecchini e rulli Pierangelo ma che? io li intendo io li intendo io li intendo ehm allora grazie per l'informazione e Yawol B Vittor entra qual sarà il dia che con i tendo volverà in chat ehm come faccio a sapere questo come faccio ad entrare in una clan war ehm guarda ehm momentaneamente non c'è non ci sono tante clan war da fare c'è solo il torneo il torneo il torneo che faremo è su Discord niente ehm lì c'è l'iscrizione ehm ci metti sarà un torneo normalissimo non c'è niente in premio non c'è niente in palio c'è solamente l'accesso diretto al prossimo torneo senza dove per fare le qualificazioni ci sono tutte le descrizioni di perciò se entri vedrai se non entri non vedrai ma Zafili posso spiegare Zafili se non si iscriverà wow che culo no stavo puntando ma Zafili è stato suerte ma è questo ma è questo che deposito non so come si fa su Discord ehm guarda se mi invii se mi invii 5 euro più spedizioni io ti faccio vedere come si fa dimmi tu posso farti 4,50 più IVA però perciò sono 5,50 se aggiungi IVA 4,50 ho 5 più spedizioni che sono due quindi fai i calcoli tu cioè tu sai il matematico io non vado più a scuola ma Sofì non sta nel disco il nostro? no ma non si è fatto neanche Sofì dillo Sofì che le dico? se vuole imparare l'italiano così almeno posso parlare anch'io con lei ho 11 anni chi? Pierangelo Pierangelo hai 11 anni? e al posto di essere a lavorare di stare a lavorare sei qui? Pierangelo a quest'ora perché non vai a lavorare cazzo? cioè dai alla Nike c'è una privata? no fai ancora una dai non mi posso comprare niente non ho soldi cioè è vero regalateli i soldi non si può regalare guarda 27.000 dai non c'ho niente se volete anche giocare con privata dateci i soldi dentro di Splatoon sì chicos e inviare il dinero di Splatoon perché voglio comprarmi uno sapato nuovo un casco o algo no ma non si può osea è intransferibile oh oh posso abrir la Fanta oi dai Johanna embracciate di Fanta yuhuuu embriagate servia in questo caso embriagate embriagone che schifo che asco chicos hola The Gamer che tal estas? espero tutto bene tutto bene? tutto bene? già sta già sta Giulietendo già sta Giulietendo già sta Giulietendo deja a mia mujer Giulietendo dillo in alemano Giulietendo è la classe ma di frau cosa hai detto? uh mi volevo scappare me volevo scappare deja a mia mujer sì si ehm Pierangelo e dopo che fai quello ehm dovresti dovresti accettarmi come amico se vuoi e ti faccio vedere come si usa discord su discord stesso e quindi 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 oh mio dio ehm ehm ragazzi ha sido Caleb eh Giulietano io ando dove sei The Gamer ha sido Caleb eh Victorin la culpa è The Caleb ha sido Denise ha 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 Ah, The Gamer, vale, vale, scusami, intenteremo di fare un diretto tambien, mas tardi, non lo so, per la 9.30, ah si, intenteremo, perché ora terminiamo questo, diretto un pochino, e poi dobbiamo andare a comprare questo e l'altro, quindi, ojalà, ojalà, e dai, Gamer, studia bene, vale, 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 tanto come hai visto in Discord, e poi sempre diciamo che stiamo online, quindi... qui ne sta la 9, sì! Io lo vedo, Victorino, che sei così, muovendo la cabeça per fare il effetto di distorsione A le 9 non so, io credo che a le 9 non siamo, perché sono le 7, a non so che ci resta il stream Sì... 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 Continuò? O è in più? O è in più? Non lo so, abbiamo persone... Sì... 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 E' l'ico del mio amico... Del mio amico... Avere? Ah... Avere? Sì... No, mi ha detto di inviare il link che vuole mettersi nel canale est Ho messo like e ho condiviso con tutti Grazie Pierangelo Pierangelo, ma sei tu quello del Discord? Brrrr, che frate fa? Pierangelo, Pierangelo 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 Pierangelo, ma sei tu quello del Discord? Oh, poi ho con Ioana 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 Io voglio giocare con il mio account e con un'altra arma Vamos a fare un pochino di spam massivo nel mio mobile Enviando Si, a ver si a quien se lo envia Luego te cuentan le sorpresi Al máximo Lo che sia De lo che sia De lo che sia De lo che sei io E intonse Le inviamo a este A este A este A esta A estu A esta Che tiene Tienes que trabajar tu hoy aquí Allora Dopo Continuate Perché sono in coda Su Splatoon Ok, ok 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 Vamos Ma che hace Che hace Niña Che hace Niña Tenia que matarlo Tu este Quero con jugar con Mi alma Mi alma Che hace aquí In la esquina Escondido Contra dos Estava jugando A escondido A ver A ver Casi En su base A ver A ver Cómo ha ido Esto Ha ido Bien Ha ido Bien Ha ido Bien Ha ido Bien Chicos Tenemos que Hacer Un partido Aquí Porque Hay personas Como Pierangelo Que Están Esperando En En Coa Entonces Ahora Empezarán A jugar Mira Victorín Ya Estaba Antes En Cola Estaba Victorín Victorín No sé Cómo Ha hecho Entrar Yvan Antes Que Pierangelo Pero Yo Jugaré En El Próximo D Discord Dante Un Up In Chau Y No Paraba De Matar A Yuritendo Jolín Joano Che Dice Che No parava De Matar Yuritendo Chissà Chi è Alex Alejandro 1969 69 Oh Per Angelo Non so Cosa Ma non cercare di entrare già perché la prossima facciamo la privata Sì 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 Perché non ho sentito Di Hacer Il Oh Hola Hola Alejandro Perdoname Eh Eres Tu No Il 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 Nuovo Amico De In Discord No Ehi Kaylee Vale Ora ti mandrei lo permiso E tutto questo Tranquillo Stai tranquillo Tu Per favore Che Elice Tiene que ir Però quando En 10 minuti o ya Te despides Ya Que Ella dice Que se va Y que Venia Otra vez Dice Doc Non posso Estar Sin Jogar Contigo Entonces Me Voy A Ducharme 10 minuti Y Después Estare Otra vez Aquí Con Vosotros Yo Esto Entendido Sì 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 Perfecto Escúchame Alejandro E Se Tienes Se Tiene La Switch Por favor Ahora Que Tiene Lo Permiso Pon Tu Código Amigo Y Toda Esta Cosa En Pon Por Favore Tu Código Amigo Nella Session Del Código Amigo Y Nada Si Si Te Gusta Jugar Con Nosotros Ya Está Todo Listo Claro Conoce Caleb Conoce Hola Alejandro Hola Caleb El Viejo Tonto No Se Ha Dado Cuenta Que Somos Amigos Se Ríen Los Dos Entiende Este Bullying Esto Se Lama Bullying Con Los Viejos Hola Alejandro También Esto No Se Hace No 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 Ah Vale Porque Lo Viene Como Moderator Entonces Todo Se Ves 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 Caleb Mentiroso Traizionero No 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 Mentiroso Vámonos Vámonos Sì 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 Mi Había contado De un amigo Alejandro Que Siempre Van a Comer La Pizza Juntos Y Estas Cosas Infatti Había Ya Quando Te Viste Dice Creo Que Es Él Me Parece E Mira Che Sta Jugando Mi Mujer Yo No Juego Asi Bien Entonces Estaba Pintando En Su Base Perfecto Yo Sò La Que Se Sacrifica Jolín Pero Que Havéis Hecho Yo Sacrificandome Para Nada No Es Broma Ha Sido Un Poco Horrible Este Partido No Ha Sido Nada Horrible Es Que Estamos Juego Contra Y Tendo Que Hace 12 Kills Mentiroso Che Fai Cosa Sark Crea Fugar Con Sark Niente Più L'altro C'è Non Entrare Dai Adesso Chico Chico Sperdonai Ma Jessa C'è Stato Mira Mira Che Sta Passando Mira Mira Che È Esplodito Cosa 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 Oh Chicos Abbiamo Echo Collapsar Abbiamo Echo Collapsar Una Stanza De Splatoon Por Che Abbiamo Echo Collapsar Una Stanza De Splatoon Per Chico, il nuovo codico è 2225. No, zio, siamo in live. Se mi stai ascoltando adesso, siamo in live. Zio, ciao. Riesci a sentirmi? Visto no, io, Sofì. Saluto la nonna. Ora è una llamada a mia abuela. Hola, Ioni. Hola, Ioni, che tal? Oh, zio. Zio. Oh, zio, vi senti? Bene, bene, bene. No, il link che ti ho mandato, se tu schiacciavi, si apriva, no? YouTube. Eh, adesso siamo qui noi. Era in diretta, era. Se c'era la nonna, la salutavo. Se era a casa. Eh, metti quel coso blu. Il link? Eh, se tu clicchi, si apri YouTube. Eh, quel video che mi senti parlare dal vivo, io adesso che sto parlando dal vivo. No, 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 siamo noi. Rifallo, rifallo. Dai. Ciao. Movimento naranja. No, l'ho concebido. I can join right now. Tu dici che Elis ha ido, no? Kelly. Ciao, Kelly. I'll be deep without you. Adesso. Adesso ce l'ho fatto. Giri tu. Uhuh. Movimento naranja. Dale, dale, che ora ti tocca a ti che stai, io voglio jugando io todas le partite. Oh, no, te lì che se non è nevata. Perdona, eh. Ah, che c'è stato qua. Perdona, perdona, perdona me. Eh, sì, sì. Per cui. Vuoi la kuma? È il nostro kuma. I go di kuma. Donde lecce si sta al bazooka? Che stai a nostra base. Nonna, nonna mi senti? Nonnina? Chicos? Salutei l'abuela, mia abuela? Che sta online? Che sta mirando il diretto? Vale. Abuela? Ciao, nonna. Ciao, nonna. Come stai, nonna? Chissà se mio zio sa che può scrivere qui. Le avrà dato il play, no? Eh, sì, dato il play ha dato il play. Sicuramente. Hanno messo il bazooka. Speriamo che mio zio va sentendo che può scrivere qui, no? Nella chat. Perché io le faccio una pregunta. Ora vamos a vedere se il e il suo amor cercano alla tecnologia può scrivere qui, no? Puede... Puede scrivere il tambien. Non lo creo, non lo creo. Vale. Puede partire subito, sì, Cardo. Mira. Cambia di modalità. Che stona te gusta. Mi schiamo lusca toccato. L'ischiamo lusca. No, tengo ganas de... Mira, ora voy a fare trampa. Vale. Zona Splat, te gusta? No me disgusta. E guarda Johanna, che amor, che... Oh, l'abuela di Alessandro! A me l'unica modalità che non mi piace è Sclamblitz. Le altre mi parecen bene. Al principio odiava Zona Splat perché non lo sapevo, era molto male. Cosa devo fare io con questo link che mi hai mandato? Ciao, amore. Ti ha fatto vedere la foto Jessica. Claro. È mia madre. Claro? Claro. Claro, Alejandro. Por supuesto. Ma lo hai accettato? Non lo sé, tenía che... A me mi ha llegato algo? No. Non so se si è regato, già? Unete, unete, Ale. Alejandro, vente. Oh, hello, poison, oh, how are you? Ah, Victor e Poison, los dos. Poison Iris, no? Poison Iris, sì. E Victor. Victor Torres e Vic. Vic, dico di Vic. E dico di... Quindi... Cullendo... Giulietta! Giulietta! Pugetta! Faccio io, sì? La live del pomeriggio è la tua. Vai, bella! Chicos, la live di questa tarde la sta jugando interamente quasi jazz. E quindi... Che live del mierda! Sarà una live del mierda? Che non lo sapete, eh? E quindi... Sì, è un amico, eh? In plan... Just to love you! Quindi io vevo che... Io vedo che... Alejandro, non lo se, non lo se ha puesto. Non lo ha puesto il codice di amici... Dei amici... Io vedo che... help trying is going to build a wall yes trump have a wall inside his mind and i think he have the complex of short neck so i have i don't like this president really hurt me just hurt me in waf so and american always have to pay the the choice of the president oh no we're losing okay this has been a partida regular regular tirando pa mal e quindi quindi e quindi 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 sto facendo danneggiare il tuo livello può essere se un danno il mio livello livello culturale ma donde sta where is vic don't play and the poison it is you don't want to play with me you don't want to play with me why why come on baby light my fire che altro blaster hai questo è un blaster mi rispondi non lo so quello nuovo e quello lì sopra sopra si si l'ho visto ma non mi piacerebbe il secondario questo è un blaster no basta solo i 3 e il rotondo non ce l'hai ale quel rotondino che hanno tutti no a io non tengo la cosa che normalmente la gente compra questo non è un blaster 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 è un calibro no non lo so se è un blaster dai no a me non mi interessa il nome no io lo provo no nel sentido blaster che tira cosa grande è venuta Laura basta allora Laura c'è Laura basta stop glauben scra scra ok non so come mettere nintendo madness wow wow Ok, era una mala, mala, mala decisión coger esta alma Que poco productivo, venga va, vamos allá Oye, oye, que el bazucarpe está en nuestra base ya casi, eh Y ahora me muero, no sé por qué no me dio por la derecha Oye, ¿cuándo vas a jugar? ¿Eh? ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué se lo dirá? No me gusta esta alma para nada, eh ¿Y cuál es? Esta cosa nueva Pero sí, pero si al menos fuera, no sé en dónde estar va a tocar ¿Yo cómo subo ahí ahora? ¿No sé si nadie está disparándolo a tocar? ¿Eh? Sí que estaban disparando ¿Sabes que están disparando todos en la misma dirección? Mira Han venido todos de repente, es verdad No, porque estábamos solos y de repente estaban todos arriba ¡Ah! Esta cosa no se pasa que sirva No ¿Qué es? No, 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 no Perdóname, ¿eh? Pero es dos, 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 cinco bufu, Caleb, sei un bufu, modellatore bufu. Altro che. Altro che. Altro che. Dove è il bazzucar? Dove è il bazzucar? Ah, però che qualcuno lo faccia. Dove è il bazzucar? Io vorrei andare a matare tutto qui. Dove è il bazzucar? Io vorrei andare a matare tutto qui. E anche, sai che è lo male di questa arma? Che la usi tu? No, che quando cammini e dispari va super lento. No, miro, 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 miro. Questo è lo più rapido che va con questa arma, miro, miro, miro. Te parebbe normale? No, il blaster, l'altro, è molto meglio. No, non muoviti, Sark, non muoviti. Non muoviti. Si parla Да, non muoviti! No! No! Non? Non! Io no era siamo ancora nelle nostre equipe. No. ho pensato che non aveva il nostro equipaggio e di repente mi accerco sono brutali queste cose il jetpack splashpack perfetto ragazzi più tardi avremo un nuovo amico qui nel canale un figlio di mio amico amico di realtà quindi a vedere proviamo di un nuovo player un nuovo questa bomba ben tirata perfettamente lanzata per la esquina genial mi ha encantato per il momento di trasporto grande c'è fatta Sark a portarlo vicino l'hai consapevito Sark? o no? che ti viste che aveva il bazzucca no andiamo a cerca di loro che ripetano vado vado vado? si Jolín Quien espera? Io? Me pongo io Si, me pongo io, chicos Che? Che ha passato? Ai, se vuoi te muovere A ver, a ver, a ver A ver Todo tiene... Si, vai buono Ah? Ah 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 Pierre Schiaccia, Pierre Oh, antes non l'ai dole de Laura Ah, in Madness? Quando hai do Madness? Laura non c'è Hey Madness Acabisco que Mírame a mi, Johanna Quando non juego sempre tengo que mirarte Laura, eh, zu der Frage von zuerst Wir werden wahrscheinlich in Kürze aufhören Und dann wieder heute Abend spielen Also vielleicht... Wahrscheinlich bist du da wache So... Lassi ancora Laura Ok Non lo so, io le sto parlando Pi, 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 pi Viene a jugar, però che idioma habla? Che guai Quien? Non se, tu amigo o? Si, si Español Español L'abbia spagnolo Espanol Io non ho la N Si, per questo quando dice Tengo il teclato italiano E molte volte non mi toque il comando CTRL ALT Quindi non posso fare la N Esa Giovanna con il sniper Guarda qui, come lo usa Tamb'è per la pinta Auc Asi, come lo usa? Tamb'è per la pinta Ah, ok, molto probabilmente Super, Laura Laura... She sta qui solo per ascoltare la mia voce She sta qui solo per ascoltare la mia voce She don't play, don't do nothing La mia voce è la voce Laura 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 Non c'è Capisco Che 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 Ed Che 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 Says Se fosse Serge. 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 Igo di Serge. Lo vanno a dare mano. Wow, Johanna. Gne, gne, gne. Che buono che si acerchano come una lupa. Questo mi piace. Questa. Wow, che bonita come l'ha escapato. Si, si. Oye, y mira ese curling de cerca, que guapo. Que me encanta esa lupa. Bueno, esta ampliación. Y para matar a los que vuelan, genial, ¿no? El sniper. Debe ser la única cosa realmente práctica. Veanlo. Glu, 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 glu. Pam. Ok, Laura. Oh, jesus. Und jetzt isst du. Laurita. Laurita. Dice que acaba de comer spaghetti. No, no, no. Laurita. Dai, no, sembra un tedesco. Si. Chi siamo? Chi no siamo? Mi sa che puoi partire. Gioco io perciò. Facciamo questo. Bazzucarpen. Ti piace Bazzucarpen? Come si chiama Bazzucarpen? No, te lo dico. No, te lo dico. Non me lo ricordo. Pesce dolato si chiama tedesco. Com'è? Cold fish. Si chiama così? Cold fish. Pesce d'oro, infatti. Oi, 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 chicos. Batteria quasi terminata. Cosa? Che sei il mio? No. Chiedo che ti assi. Tu cosa? Molestai smash. Che è? Che è? Che coca ti ha? Ah, si. Ma che tu sai quando vuoi cambiare l'aula? No, 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 no. No, no, no. Lo va a dicir antes de tutto. E per fin lo saben escribir bien todos. Eh, mira, ma quant'è che stiamo scrivendo? Que lo tienes que sumar las dos. Eh, si, hombre. Hace 26 minuti. No, sei que 26 minuti. No, a ver, è molto facile. Eh, 5.30 o meno. No, 5.00. 5.30. 5.30. 5.30. 5.30. Sono le 7.20. Llevariamo 2 ore. Chicos, preoccupate in serio, per favore. No, signor, mi perdono. È che stavo leggendo un altro WhatsApp. Tranquilo. La prossima veste voi borrando dal WhatsApp. Non è che lei leia, eh, il messaggio? Eh? Wow, Sark. Perfetto. Quindi, stai mai tralala. Vai, vai. Brota. What do you think, Brota? You are not my Brota. Alex! Alex! Hola! Eh, eh, eh. Salutiamo a tutti, Alex, per favore. Alex! YAN! Uh! IAN! Uh, uh, hush! Chi è? Bo? Io che se chi è chi è. Mi dici tu saluto? Lo abbiamo salutato. Puoi. Che lei, che d'lccia più rapidi? È piccana. È pelle, è una di 50 cm, stop, Che lei. Se d'lccia veloce. Perché è già volvessi a gioare? no, ora deve secarci due giorni al sole certo è il sniper sì, sì, credetelo Sark, per favore, fai la tua cosa, per favore vai a comprare il giorno guarda, guarda, guarda un figlio di non si va un figlio di, guarda la realtà, Sark, dove vai? i figli di non scappano non scappano è Anna no, espera non è Anna è Sark? sì è stato troppo posto in un punto strategico oi, però questa rampa anche se lo stava a giocare, no? sì vamos a vedere chi lo tiene no, Sark è la mia migliore sì grazie Alex sì, grazie ciao Silvana mia madre hola chicos, mia madre cuidado la mamma del doc in chat che scrive ciao mamma mirai che vita che vita tiene che fare mi madre tiene che salutarmi in chat no? perché non non possiamo vernos quindi qui siamo ciao amore miei Víctor il reto non è usare il giroscopio os rettiamo a voi a usare il pro controller il pro controller venga va, è un reto e abbiamo giocato il giroscopio è giocato così male, Víctor? no, si mata un montone ma è che ti cansi no, ragazzi Silvana è mia madre alcune persone già l'hanno visto quindi tutti a salutar la mamma del doc forza vale Alex ecco che ci stiamo te speriamo se vuoi no no eh, qualcosa mi ha perdito che, che me ha perdito come algo tu abuela habla spagnolo lo entiende, lo entiende hola Nai asido la creatora al set allora asido la oh perdonai chicos la creatora i modera adora chicos lei lei stodo por favor la contrassegna non è questo no no non lo sappiamo io l'ho provato vale non mi ricordo che è lì tengo mala memoria non me la ricordo ora credo che Alex ti gusta che non lo sappiamo 2,2,2,5 Alex hola ha volto no mamma è spagnolo no non ti devi che ponermi la non mi devi mettere la G mamma un secondo che hai mia madre qui intanto chiedo salutarla in un rato lo puoi avere perdonami no no ci do e hola Silvana sapete che adoro Alessandro mamma tu lo sai che Ioana mi adora è vero sai no che Ioana mi adora mamma qui sì lo sai come puoi vedere tu tu personaggio Inkling dove lo vedo Neiara che dici se hai visto il suo personaggio Inkling però non non lo hai visto non lo hai visto si te metti sui canale perfetto ora voy jodin Ale, la sientra juegas tu Se non vuoi giocare tu, giocare io Noi ora Vamos a ver Vamos a ver Intro del canal Qual è? Hace 3 ore Ok, adesso finisce la partita Che succede già? Niente Non vedo Ah, il mio personaggio è Inkling, dove è ora? Quella orecchia sventola E dalle like Però non ha sì tanto da non darte like Mi ha mirato il video Mi gusta in parte perché io comprendo, ma non comprendo molto bene Alcune nuove stile di manga Questo ti dico Hola, che? Buon appetito mamma, perdona, perdona Hola mamma di Alessandro Vuoi avvigilarmi ben? Alessandro si porta mal Le voglia mattare Splatoon Cambio Allora mamma Mamma Kelly Una Divina Italia Kelly Che è una ragazza che gioca con noi Ha detto Non ti preoccupare Che mi vigila lei Ok E se faccio qualcosa che non va Mi ammazzano il gioco Non ti preoccupare Mamma Kelly Pensa a me Ah Sivana si è andato Non lo so Mi ha detto Bezos Vuoi a comere Sì lo so Però può essere Ancora in chat La mamma Sì Parese A un In chat Ma non è finito Che mi sono perso Beh minchia Sembra del 26 L'ho visto No Victor La madre non sta Victor Credo che si ha entendito Che tua madre vive in Venezuela No E anche Tu vigila Alessandro Capito Per se acaso Per se acaso Sì Kaylie Te lo prometo Ah Estamos llenos E qui Chius Jogar Te da Igual Te toco la torre Móvil Y tu Te ocupas De ser El malo Que pone Alguien Como Espectador Allora Chicos Lo che Tiene Que Esperar Será Allora Pier Il re Ancora Non se L'è Fatto Fuori E Melanie E la Ultima E la Ultima Sempre Spera Muy Simple E Ciò No no Che se va a portar Bien Dice Johanna Certo Zoran Stoyanovir Sempre Respondido A ver Non è che Teremo la mia città No? No Non è che Teremo la La lista D'olier No? Nayara Nosotros No seguimos La fiesta Consumista De San Valentin San Valentin Y tu? Que has regalado Y que te han regalado En San Valentin Porque Si me preguntas Imagino que Yo no tengo novia Entonces No No tengo que hacer Regalar la novia Cuando Estuve más joven Si Hacía el San Valentino Claro Aún tenía el consumismo De regalar Una tontería O dos Cinco A mi novia 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 Valentin Se celebra Se celebra Siempre Desde el 1970 Más o menos No es una cosa Vera Seguramente Antiguamente En San Valentin Se iban Se lo mataron A San Valentino Iban a sacrificar Un animal O cosas No No Es por decir Las tradiciones cambian Es solo la tradición Del siglo XXI Esto Que es la que más dinero trae La que más beneficios crea Y bueno Con la que mejor Vivimos todos Al parecer Pero a nosotros Pues no nos mola tanto Yo le regalo A Jess cada día Me trata como si fuera San Valentin Para vosotros La sonrisa La sonrisa Esta es la cosa más importante Que tienes que regalar A la persona que amas La sonrisa Y la tranquilidad Lo que quiere comprarse Se lo va a comprar Con dinero suyo ¿No? Así Tengo una ligera sensación De que siempre toca Los mismos modos En el mismo escenario A ver Está en random Si que es verdad Que por ejemplo Zonaspla Toca mucho En el de las algas Etcétera Pero van cambiando De todas maneras Si Pero si que es verdad Que Parece siempre lo mismo Si claro Y hay muchos escenarios Esta es la cosa Que me molesta Si Porque yo creo Que son los que han programado Más para este tipo Yo creo que Porque nosotros Jugamos mucho Y porque Hay niveles Como estos Que son Modificados Propios por Torremóvila Por ejemplo Si exacto Exacto Porque cada nivel Tiene una modifica Entonces creo Que van a aportar A segunda de la modifica Que han aportado Al nivel Si Que son Estas son los que hacen Las pros Seguramente Estas combinaciones No No La batería casi Descarica Es porque no me va bien Esto me está Proprio Su Tutto Porque Ogni Vuelta Que entra Es la única Cosa Que dice Cosa Nintendo Switch Gaming Hallo Schöne Que du Vida mal Hier Es No Leida Schade Dass Du Jedes Mal Bevor Tu Hallo Sagst Un Bittes En Liga Kamp Und Wir Müssen Ja JEDES Mal Aclarar Daz Wir Acht Leute Grat Die Spielen Un Liga Kampf Su Fiat Es Echt Langweilig Gerade Ja Sorry Ne A Me A Más Interes No Tengo Tockeado No Nintendo Switch White Oh Que Buena Johanna Mi regalo Especial Es Que Le Adoro Alessandro Y Me A Me Me A Conocido Punto Ya Está Así Se Tiene Que Pensar Como Johanna A Atenzione La Pregunta Que Ha Dicho No So Quien Se Está Enamorada De Alessandro Ella Está Enamorada Ella Lo Adora Eso Es Otra Cosa No Es Amor Ella Pensa Que Puede Puede Hablar Conmigo Encontrar Cosas Que Le Hacen Mejor El Día Claro Por Ejemplo Entonces Le Gusta Mi Amicidad Y Lo Expresa Mucho Es Esa Diferencia Puede Ser Como Yo Amo Mi Amigo Compañero De Trabajo Por Ejemplo No Ejemplo Ejemplo L'amore O L'adorazione De Una Persona Puede Ser Del Mismo Non Ej Una Cosa Nintendos Nintendos Tue Me Echt Leid Wenn Du Mal Abends Um 12 U Nacht Online Pista Spielen Wir Als Liga Kampf Weil Da Gibt es Weniger Leute Ma Cosa Wolle Giochiamo Liga Si L'ha Ditto Ja Que No Senso Quando Siamo Un Otto Igo Di O Quasi Cosa Gioca Liga Dile Che Venti Perso Siamo Nen Stream Dovrremm A Venti Ah Perché Non Entra In Nostre Stanze Sta Persona Wenn Ihr In Discord Seid Dann Könnte Andre Leute Adden Und In Fall Wo Wir So Viele Leute Sind Und Nicht Alle In In Das Match Kommen Könnt I Unter Euch Liga Kampf Spielen No Leid Dice Discord Aggiunge Le Alte Person Met Il Su Kodice In Situ Situ Così Che Non Potete Entrare In La Partita Andate Jocale Liga Chibolete Punto Viste Cómo Let's Jocale Liga Claro Yo Quiero Ser Novia Del Sandro Pero Seguro Que No Me Deja No Cariño No Te dejo Yo Vamos No 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 Puedo Yo Es Demasiado Preciosa Para Ser Mi No Pero Cariño Es Como Tu Padre Un Poquito Creo Más Viejo Tiene Igual Volvi Quieres Que Me Tu Tienes Que Quieres 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 Así Duramos Más Porque Yo Después De Dos Años Tres Le Cambio La Novia Entiende Entonces Si Tú Eres Mi Amiga Va A Ganar Más Entiende Cuando Es La Moda Que Se Una Quien Quiera Chicos Quien Pueda Y Quiera Que Se Una Todo El Mundo Pueda Nunca Le Hemos Dicho No 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 Te Unas Haremos Una Room Nueva Ahora Vamos Cambiamos Nuevo Chicos Nuevo Nuevo No Bastanta No Ay Cielo Créeme Créeme Vale 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 Jaime No 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 Estamos Vivo Public Yes Ahora Estoy En La Friendzone Oh Pien Angelo Viva Lenonne Pero Estoy A 50 Centímetros En La Friendzone Así Que Estoy Bien Allora, 0, 7 Ay, Jaime, perdono, non ti avrei risposto Hasta luego, nos vemos in un rato Si, ancora siamo, e se non per la notte Oggi stai di ducha, no? Toda settimana Oggi tutti os lavavate, no, chicos? Oggi stai higienici Discrizione Vale Mmm, buono, chocolato caldo fatura sua nonna Eh, viva le nonna Viva le nonna Io quasi quasi ti direi Che quasi oggi non uscirò neanche di casa Io non lo sé Ah, minchia, un secondo Perché credo che Io tengo le allucinazioni, io creo No, 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 però Tengo un amico nuovo Si, sverdad A me A me E dai E dai Non sarà Ups, non si è olvido il nome No Quien? Que nome? Vale Non sarà Non sarà Non sarà Il hijo di tuo amico Non Non lo sé Hola, come si va? Alex della Valle Eccolo Alex della Valle Pierangelo Sì Sì Non è Sergi Non eri tu, no? Come, Sergi Sergi, come No Ich bin drin Sì, sta Ha toccato Immer chillen Wie heißt du denn? Bist du Luikila? Il tedesco Stava solo un po' Depresso Perché Se ve che Intentava Entrare 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 Un montón De rato E non podía E al fine Sempre lo chiede Questo Adesso Riuscito a Entrare Chi è? Luikila? Che sempre Ci chiede Luikila Adesso Sto chiedendo Bufu 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 Di bono Come stai? Hai visto Quanto ti vuole bene La nonna Che ti fa anche Il cioccolato Stando stanca Devi sempre Ringraziarlo Stando stanca Stando Male Bufu Chiedo Sare tu friend E puoi Aggrega A noi Quale Stai Già se non Diccio Sta nella descrizione Mira la Yara Che cara Che pone Cara decino Ah vale Si Lei è Luikila Chi è? La Yara La cara decino Che pone Che le pasa? Io che sé Vale Mira Nintendo Switch Gaming È Luikila Ok Mi faccio un tatuaggio Così me lo scrivo Ora me lo segno Che intorse Che è Diccio Ma io Hasta il mese Passato Nì Nì Costa Rica Hola Prit 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 Hola Costa Rica Che tal Che tal Estas Tutto bene Estamos Aqui E Nosotros Somos En Costa Pobres Hola Ciao Watermaster Sin Un euro No Teniamo Nada Watermaster Dice parlate molte lingue Sì è Ma che lingua è lui? Non so Sembra italiano Italiano Sei italiano? Bufu Italiana Bufu Italiano Bufu Sei tu Reaction Chi vuole la reaction? Andy Andy Crabmatch Se lo può essere uno Andy Crabmatch Ma si Bonbon Melanie 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 Toto Vai 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 Che cosa stiamo Ah ma è qua Potevo dirle io No Walter Master Español Ah perdona Vale Vale Ma è Español De Spagna O Español De Pagna Perché Mi 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 Compagnolo Sempre mi Pergunta Se sei De Pagna O De Spagna Spagna Come dicono Con che acento Spagna Spagna Soi tan pobres Che tenéis Dos Nintendo Switch In casa No 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 Ne compartimo Abbiamo cortato Una Bien Bien In Dos Partito Prontos Abbiamo Diciamo Una cosa Tambien Che Una De La Dos Nintendo Switch Ha Sido Regalada Da Un Amigo Por L'aldad E Siempre Vamos A Dicire Gracias A A Mi Amigo Porque Así Ahora Los Dos Podemos Jugar Porque Si No Este Año Ha Sido Más Pobre Yo Creo Que El Pobre Que Vive Debajo De Tu Casa Habemos Comprado Calcula Explica Yo compro Siempre Conso Al Diorno Uno Cuanto Che Vamos A Con Switch El Que Siempre Compra Todas Las Consoles De Toda Su Vida Se Ha Comprado Día Uno Al Nintendo Switch Casi Le coge Una Depresión Porque Se Ha Tenido Que Esperar Ocho Diez Meses Diez Meses Ocho Meses Imaginaos Cómo Estaba Este Madre De Dios Que Ya Ni Encendía La Xbox Porque ¿Para Que Voy A Xbox Si Existe La Switch Y No Puedo Jugar Perdona No Encendía La Wii U Dilo Bien La Wii U No Encendía Nada Ya Porque Nada Ya Encendía La Xbox Ah No 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 Min Ves Cuando Yo Hablo De Cosas Que Me Afectan Mucho Que No Me Olvido De De Lo Que Estoy Haciendo Yo Estaba Pintando Con La Vóngula Detrás Y Dicía Coño Que Que Me Puesto Detrás Que Así Bonita Mira Como Me Queda Bien Era Una Vóngula Entiendes ¿A Que Sois Hermanos O A ver Quien No Nos Entendió Dicho Que No Somos Hijos De Padre En El Sentido Que Ya No Somos Los Niños Que Dependemos De Nuestros Objetos De Nuestros Padres Porque Podemos Permitirnos Comprar Las Cosas Porque Trabajamos Eso Es Lo Que Asco Chico Hola Angel Yo creo Que Johanna Sabe Que No Somos Hermanos No No Que Hermanos Dice Ah ok Pobre Johanna No Ya Lo Sabe Johanna Sabe Que Siempre Sabe Su Amigo 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 Y Yo Voy Cambiando La Mujer Cada Dos Años Cuánto Es Que Estamos Juntos Y Tendrías Que Hab Cambiado Un Par De V Entonces Yo No Pongo ¿Cómo Te llamas En la Wii U Que Yo La Tengo Si Pero Johanna Es Que Ya No La Encendemos Sabes Eso Esa Esa Cosa Porque Ahora Entre Que Falta Sitio Para Ponerla Y La Verdad Que El Interés La Hemos Perdido Un Poco Justo Un Poquito ¿Tú La Usas aún? Miski Moluski Y Ahora Mismo Uno Due Boom No Ay Ángel Salate Hola Ángel No te había Reconocido Ione Ione Vale Vale Entonces Entonces Aves BNM Ma No Tiene Ya No Tiene El El Video BNM 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 Si No Si Si Ma Nae 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 Ara Si Te Amas Nae Chan Nae Chan Si Kuchong Si No Meishen Es Como Si Dijeron Nation Mira Narayana Nation Entonces 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 Un Segundo Chicos Que Estoy Poniendo El Título Al Reaction Que Voy A Hacer De Igo Di Kaylee Ah Si Si Vale Prepárate No Nintendo No 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 Está Chicos Empezamos Reaction Cosí Directo Sin Hablar Te Gostado Mucho Vamos Me Amorado Vale Entonces Quien Vamos A ver Vamos A Igo Igo Kaylee Kaylee Oh 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 Dios Se Fue ¿Dónde Kaylee? Kaylee Kaylee Ah Está Aquí Kaylee Vámonos A ver Lo que Pasa En Esto Ya Tiene Que Combatir Contra Un Sniper Ya Del Buen Inicio Del Partido Mira A ver Se Ha Asustado El Sniper Si Ha Tener Que O Y Ahora Está Abajo A ver Que Le ha Tirado Una Piedra Ahí Y Va Es Splata Muy Bien A ver Lo que Va Pasar Ahí Avanza Avanza Junto Con su Compañero Y Retrocede O sea Que está Cubriendo Bien La Zona Que Esta Quede Bien Cubierta Rápido Kaylee Y Volvemos Al Punto De Partida Donde Se Ha Contrado Antes Con El Sniper Y Otra Vez Están Ahí Los Dos Tres Snipers Mira Mira Que locura Kaylee Cuidado Tres Snipers Apuntándole A ella Pobrecita Adelante Otra vez Ah pues Yo veo Mucho Rosa Muy bien Miren Uy Uy Mira Mira Como Está Escondido En la esquina Como Se salva Esta Kaylee Increíble Ha escapado De dos Snipers Otra vez Y ahora Vuelve Para machacarlos Ahora que Se creen Que están A salvo Ahí está Otra vez Al Yo creo que Kaylee Es una Jugadora Muy divertida Es Imprevedible Entonces Tú Piensa que Es un lugar E di ripieno sarà il altro, si muove molto eh, in verda Oh no, no, no Uh, è perché arrivo no Olè Vai, 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 tira, 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 tira Muy bene, che grande Resto, resto, vai, vai, vai Usa la tecnica del salto, che è molto buona per avanzare molto rapido Cuidado È lui killer Va Si, e la ultima Quedano 25 secondi, sicuramente Sono 22 Si, sono 22, è verda Quanto è? Ora Quanto ha? Che? Quanto, quanto falta? Ora 14 13 No, 12 12 11, tira, 10 9 Se stanno andando Tira, non posso dire quanto ha? 4 Sono 3, tira 2 1 Uè Mira, 3 nai Buon anno Buon anno Wow Que ballina Venga Voila Espectacolo al stato puro Si È un ritmo tropical È un ritmo tropical Bien, bien, bien E va E va E va La nostra Kelly Va Da offline E lo streaming Sta offline E ma perché? Si avrà Accavato D'alguna maniera Chicos Voi giocate Non mi preoccupato Il diretto è esplotato È un ritmo di Si, si Hay cosa Youtube Tiene que entender Que tiene que darme un poquito Más de espacio Por la chat È un ritmo di Ma io lo vedo ora È un ritmo di È un ritmo di È un ritmo di È un ritmo di Vivi ha muerto Sempre muere il tío Eh Bueno chicos Mi han llamado ora Dalla regia E mi han dicho Che la reaction De Kaylee Ya Ha ido Ya Ha sido Subita E mi dicen Che tiene già Dos milioni e medio Di visualizzazioni Chicos Dos milioni e medio Vamonos Però tiene solo Tre like E va E va Io e me Just a me Che vogliamo Che vogliamo Aver Vamonos a ver Un pochito Nayara Come ha empezato A jugare Se va bien Se va bien O menos Clau Por cierto Galepsi È ese Il ritmo tropical Io lo oigo Io lo oigo Dice È un ritmo tropical Io lo oigo Claramente È un ritmo tropical Come se fosse brasileño Sabe No No Siempre Pobre Alex Che le pasa Uy Está completo Alex Alex Haremos Haremos Un 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 Otro Room Un Otro room Tranquilo Por eso Ah no Ma A me Donde Está Vale Al tuyo Que no Está No Eso Te hace Un montón Bo Un montón Para Cuando Otra Reaction De Mi En La Primera Reaction No Me dijiste Nada Que Era Caleb Como Que no Le avisaste Que I I I Te Gusta Ser La Primera Donna Mujer La Primera Mujer Se Dice Aquí Buena Esplatada Se Dice En España Ser La Primera Mujer La Prima Donna La Yo creo Que se Entiende La Prima Donna Si Es Como La Star La Diva Action Y Coco Está Durmiendo Yo he grito Hasta Hora Y Hay Sto Pajaro Sto Piel De Pajaro Aquí Che Tia Tu Eres Modo Tu Trabajo Es Vigilarlo Perché Acrylin Uuuh Al Final Vuelve La Base Oh Modera Hola Hola Angel Uuuuh Y Clau Oh Angel Angel Puede Empezar A Salutarte Con El Otro Con Alex A 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 Saludarse Entre Los Dos Si 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 Nos Quitáis Trabajo Conoceis Un Poquito Mejor Hola Hola Clau 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 A Adios Haha Que tal Los exámenes Yo creo Que a Todos Les esta Yendo Más o menos Bien Por La Está Yendo Y Nos Están Comentando Solo Que Los veo Todavía Un Poquito Estresadillos è la migliora epoca della vita ah che si, tu non lo piensas? quando eri piccolo io non ho mai stato piccolo mi madre mi ha fatto così così, in serio con l'estatura, con la barba no, però io credo che sì che non si percebe quando sei joven che è la migliora epoca, però che la è la migliora epoca, sì la migliora epoca oggi ho cercato un 2 di tecnologia però che teni, le noti come in Alemanna che un 1 sta molto bene e un 6 sta molto male ok dai chan dai chan bueno, bueno, bueno empezziamo il ultimo minuto di locura io dico lo che devi fare e voi dovete ottenere il caserlo pierre salta, pierre salta salta come un pazzo pierre salta, no, no, no pierre non è andato ok, dire questo qui dire se la fargi, la girare su se stesso turn around on yourself no, è dreti mal um dich herum quando tu ci senti Louis Killer oh god ok, quando sei da questa situazione sei da questa situazione sei da questa situazione sei da me se senti perfetto e ora andiamo da kelly 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 per favore pon te in un'eschina e sta ferma pon te debacco della pintura in un'eschina non muoverte kelly non muoverte no, no non ti muoves kelly kelly no, no, no no, no io chiede ganare no è stato tonteria no, no mi interessa che vuoi adios reaction siamo campioni noi calep sì, calep mira che guapa che è chi è questa mi hai innamorato kelly kelly può essere che mi hai innamorato di ti ti hai una classe chica che è torre mobili no, basta qualcuno allora credo che può star fuori una volta lui e una volta kelly ora kelly una ah no perfetto te do cayori bobeddo sono innamorato meno svisciata che hai di hai di hai che c'è? in teoria dice di hai però credo che è di hai sì di hai me encantaria fare un video dei errori di un'español di un'español e che tutti tutti sanno la tv e che tutta la spagna lo vedino e che si sientano male sì che si corrijano perché così noi risuriamo tutti meglio se tu hai studiando la lingua puoi dire una cosa così sai cosa che cosa? io che conosco vari idiomas sapere che il spagnolo è un angliamento especialmente propenso che invita a fare sui errori perché ti hai massi di parole che suonano ugual e che si scrive diverse e dici perché? non, non, non Perché uno hanno fatto un scolace, lo hanno un tosinace? quindi come sparo lontano ma che arma era? ah quello lì perfetto io me lo voglio comprare e non me lo posso perché mi si me aparece e non ho sufficiente per comprare oh ragazzi se entro questa notte non mi dais 10 euro e 30 like non respiro più che me voglio matare oscuro che me voglio matare non respiro mai guarda 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 lo killer volevi eh volevi ah no me la niente si la niente si la niente è che tiene il mismo pelo che Calep e come io aspetta che tengo che passare il link mi potete dire quanto tempo llevai in directo per poter vedere la partita anterior in differito voglio vedere la parte da altri punti di vista no lo so come possiamo sapere ora quanto arriviamo in directo? mira 2 ore e meia 2 ore e meia Jess ancora aveva il pelo il pelo di color marrone guarda che è arrivato che è arrivato Sergio oh 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 ollà 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 perma come si esgrötti questa questa cosa di qui aiuto un momento sta intendo a fiumare ollà benvenuti oh chicos avvenveni del come si dice mio nipote come si chiama? mio sobrino ha venuto mio sobrino Sergio non mi sa lì il nome a ver quindi Sergio scusami hai che fare una cosa hai che nella descrizione del video del canale veras che hai il mio codice amico quindi tu mi puoi contare come amico nella switch intenta e se hai cose che non lo accetta dimelo perché può essere che tengo la lista piena dei amici claro che hai che parlare con respeto hai che parlare con respeto sì perché Angel sabes che qui quando hai la moderatore sempre è un problema perché non si hai che parlare male quindi se qualcuno ha parlare male hai Caleb che è feo Caleb è feo è serio è feo è serio è grande dice che si come lo hueso anche lo hueso dei bambini cattivi però tu hai risposto bene a Joni ah sì no io le ho risposto male le ho risposto male io perché non avevamo due e meia hola Fox ah mira una ora e treinta e due una ora e treinta e due una ora e treinta e due avevamo in questo mira una e treinta e due te lo appunto qui vale bambini hasta luego no dile bambini mira che eh eh tengo que ir a hacer una cosa creo no eh sì Caleb tu te enfada sempre come non te enfada nunca anda no se enfada se pone solo serio eh sì ah 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 Calebro la pezza la chica di Alessandra però vale, vale! Ahi sta! Sergio! A ver... A ver... Dejamelo ver... Madre... Madre... Juego su juego... Donde sta? È lo che mi interessa ma di tutto lo vedo! Donde? Ma donde? Qual è? 30 ore? È che ha provato molte! Che ha, Cico? L'accetto? A mio sobrino che tiene solo 30 ore? Vale, vale! No! Sì, l'accetto, l'accetto! Anda, anda! Alla 12 i 30 salgo dalla scuola! Alla che è pronto! Sì! Sì! Sta com'entraere ora in nostro partito, per esempio! Sì! Sì! con un nuovo codice quindi unete quando faremo il nuovo partito immaginate che dici lo guardo però non lo vedo perché ora siamo pieni siamo pieni quindi ti dico che hai solo che aspettare un partito a Bazzucar te lo miro qui un secondo boom si però Nayara la verità è che il numero di ore giocati non è il unico criterio che utilizziamo per ora di borrar ci sono anche altri criteri che dice Nayara non merezco che mi borre, llevo 250 altri criteri sono per esempio una persona che ha agregato hace molto e poi non ha mai venuto al stream o che non ha mai giocato con noi se il giorno di mattina vedete che non stai mai in mia lista e perché? io sai, per certo che tu quando juegas e non mi vei mi va agregando otra vez perché tu sabes dove encontrarmi entiendes? sempre lo diciamo se una volta che non stai mai vedete 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 che in serio pesato sempre che vuole quitarmi tutte le donne sono sui però che non va per le ore di gioco però ovviamente come ti ho diciamo se hai una lista uno che ha jugato a 5 ore di Splatoon tu sabes che questa persona non va a jugar quasi nunca contigo io lo vedo così io lo vedo così io lo vedo così io lo vedo così tranquilos 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 no os apureis Anna Johanna 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 preta il botone Johanna colvin 2 ore su that rosità f gleba rosità rosità se n'è f casata di più di più mentre da più chilometri ui di più short f dimulla ah Ostra Adios Lo amo Adios Ángel Oh Ángel, nos vemos más tarde, vale Tranquilo que lo sabemos Y nosotros podemos hacer El directo por los amigos latinos También Siempre, siempre, siempre lo hacemos Entonces tranquilo Ángel Que nos vemos más tarde Si, cuídate 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 y cuídame No me lo creo Antes decía Que le voy a ponerme el arma de calé Para ver si soy pro como él Yo también pienso así siempre Luego me doy cuenta de la realidad Dos personas que no jugaban Ana, por favor, juega Porque hay un montón de personas Que quieren jugar Si tú estás en el partido y no juegas Y ahora no está jugando Mi sobrino Y tú estabas ahí a mirar el suelo Ok, ahora haré una estanza con código Entonces tú tienes que ir en amigos Ir en mi estanza Y poner el código que yo ahora pongo Oh chicos, si podéis Chicos, por favor Dejáis entrar un segundo Sergio Y después todos juntos Vale, el código siempre muy difícil Y pongo un 7 1, 1, 1, 1, 7 No, yo no lo he leído No, yo no lo he leído Espera, que hagamos scroll Espera, espera Ahora haces scroll Ah, vale Es que estoy Ay, lo he leído Pero es que estaba entre tantos mensajes Es que estoy muy liada con los examines Me va bien Pero quiero también jugar contigo Y debería echar más horas de ocio con vosotros A nosotros Aquí estamos Sí, no te preocupes Nosotros los examines no tenemos Vente, vente Únete, por favor Únete Únete, Sergi A ver Ahí está Sergio, lo tenemos Eccolo Dai Hacemos subito una reacción De mi sobrino Sergi Sí, ok, venga Oh, escúchame Sergio, ahora Voy a grabar tu partido Y haré el video Sí, sí, claro Y lo voy a poner Directo en YouTube Entonces Chicos Livello 11, por favor Dejadlo un poquito tranquilo Cuidados No, no Jugáis como sabéis Mis oídos Jugáis como sabéis Entonces Voy a hacer la reacción de Sergio Y dejo afuera Sergio La reacción Su padre Que me hace el video Mientras se enfada Que lo deja de afuera Entiende Yo lo posto Oh, Pierre Te lascio fuori a te Dai Estás conmigo Fuori, dai Claro Mira Sergio Yo soy nivel Tranquilo 18 Ahora mismo Tranquilo Lo sé, lo sé Y es porque no juego Nada más Y vámonos Ponte ya la pantalla La pantalla Claro Tengo que hacer la reacción Y cada vez voy Siempre haciendo los mismos errores No pongo la pantalla No pongo esto Antes decían Ay, quiero la reacción Mía también Aunque sea la mitad Pero como es Ah, es verdad Que no lo tiene ella No, ya No, está apuntado en el listado De lo que no tiene Es que, mira Justamente Hicimos una lista De la gente que De la gente que nos faltaba Y estaba Estuviera justamente La época en la que no pasabas Y la lista Ya no está ni en la mesa Está por ahí Vale Chicos Chicos Ahora No escribís por la chat Porque no Vamos a leer Porque estamos mirando Un partido Sí Entonces Contestaremos en breve Vale Tres Dos Uno Estamos pronto Estamos listo Ale, ale Sergio, ale Vai Ahora vamos a ver Mi amigo jugar A ver lo que pasa El mi peque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí Lo veo, lo veo E vamos 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 a sergio Con el rodillo Listo Mira, mira, mira Ya, subito Que La buena Intendedora Sigue a Kaylee Y va a sergio Oi, 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 oi ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, oh, oh Ha un poquito De lag Poco de lag Pero Fox No, no hay Grande No hay Buena jugada Porque como se movía Pensaba que era Fox Él se acuerda que tiene que pintar Que no es matar La, la, la Yo pinto E va Termina Quizá que rollo Este ¿Eh? ¿El rollo? ¿Parece? Que rodillo Yo creo que será uno de los primeros Más que nada porque le va a pasar lo mismo que a mí Que no puede acceder a mucha cantidad de armas todavía Ah, es verdad Diez Diez, diez, diez Uy, uy Uy Si salva Si, si salva Uy, cuidado, arriba, 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 arriba Que lag, que lag Oh, mio Dios, Dios, no, no, no Esto no puede ser Creo que se ha salido de la partida Creo que se ha salido, si Ah, mi lastima Ay, da como ha ido Lo habíamos intentado, chicos Ostras, mucho lag Claro Ha hecho golpe de lag En una manera Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Fox No lo tenemos Fox La reacción de Fox Del evening Es claro Es verdad Entonces vamos a hacerla Subito la partida después Vale, vale Chico Esta reacción Ha ido un po' así Si Si Podríamos subirla igual Y llamarla No, no, no La lag extra No sé La lag extra Ha sido la cosa No Ha lagato mucho, mucho Igual es porque la primera partida Puede ser No, no, no Tengo que decirle De ponerse un poquito más cerca del router El router Jugando Porque Era propio lag De internet Mira, estaba lo escribiendo Si, 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 Sergio Lo habíamos visto Aquí en el video se veía claramente Es como que Se veía, se veía El suelo O sea, tú pintabas el suelo No estaba nada colorado Y de repente ya estabas como 5 metros para adelante Si, si, si Y hacía el percurso 3 veces Si Tranquilo Ponte más cerca del router Se usa Se está usando el wifi Y Es portable Te digo Y Y Y Grande Grande Fox Que jugada Tío Perfetto Una bomba Si, no Tranquilo Tranquilo Sergio Que Entra tu Entra yo E tu padre Nesto día Soluzionaremos El problema Del lag Entonces Vamos a ver Es todo Azzur Todo Azzur Si Y era lo del handicap match No No Ellos eran los favoritos Claro Claro Pues nada Que estar en comedor Pero ya aprendí Cómo, cómo A esperar Ah, sí, 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 sí A mí me pensaba cuando viene Claro, porque ha tenido El problema Entonces Tenemos que hacer la reacción De De Fox Falta la reacción De Fox Entonces Me pongo yo Como espectador De Fox Entonces Sergio Haremos este partido Esperando que No te caes Entonces voy Y tengo que Y tengo que La paluquera Yo no la quiero No la quiero ver Naishan Porque si no La tengo Tengo que ponerme En los amigos De En los amigos Ella es una Igo Y al final No es una amiga ¿Y entonces? Entonces Se pone Igo Y le lo hago Con corazón Porque ella Para mí Ha empezado A venir Ha sido Una de las primeras Ella también Entonces No has entendido No hay Uff Esto no te lo Pero No, no, no Ahora no Ahora no No hay Luego Luego Ahora el partido Yo Y tú te vas No, no No puedo Pierre No puedo Creo que Se fue Oh no Togí un attimo La partita Vale No reaction ¿Por qué? Porque son Tres contra tres Se han ido Dos personas En un golpe Solo Juntos No Creo que Se ha caído La room No ¿Qué pasó? Entonces No hacemos Nosotros Tenemos que hacer Alguna cosa ¿Sabes? ¿Tenemos que irnos? No lo sé Sé que Muy tarde Si tenemos que irnos Tenemos que irnos Ahí media ya Ahí media Ya Último partido Irnos Fox Mira Mira Yo creo Las reacciones Lo dejamos Para el siguiente stream Sí Porque tanto Tú Puede Fox Más tarde Te digo Porque Se puede Más tarde ¿Dónde es Sergi? ¿Dónde está Sergi? Se ha vuelto De divertir En este juego Y además Le van a ganar Al final En el sentido Le van a Castigar Sergio Sergio Cuidado Porque Se te Desconectas Muchas veces De Splatoon Te mandan El 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 Pero no Antes por 5 minutos Entiende Y cosas así Y después puede ser Que te mandan la cuenta Claro Porque al final Nintendo Digamos Considera que tú Estás perjudicando Demasiado El juego De los otros Sí Esta es la única cosa Que comunque Tienes que tener en cuenta En Splatoon Como en muchos otros juegos La peluquería No tiene fibrótica No 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 la tiene La peluquería Si quiere ahorrar Quiere ahorrar un montón Tiene Una 50 SK Buena esta Me ha gustado Cada vez que le llega un WhatsApp A la peluquera A él se cae del juego A él se cae del juego Ostras Esta peluquera Me ha Veramente No puedo más No le puedo Ma todos Se han desconectado Tal vez Encima él Está seguramente Mirando el stream También usando internet Pobre Pobre Sí Polinesio Escúchame Sergi Intenta hacer una cosa Intenta Entrar Y no mirar Lo streaming O baja Toda la calidad De lo streaming Baja todo Todo La calidad Entiende Y juegas Bella Kelly Kelly Uuuu 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 Vergogna Uuuu 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 Vale Uuuu 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 Kaleb Uuuu Sergi A todos Uuuu 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 Uuuu